A Ragusa la tradizione incontra l'innovazione e l'ecosostenibilità. Ieri a Roma, presso la sede del Ministero dell'Ambiente, si è svuota la cerimonia di consegna della bandiera Spiega Verdi, conferita anche quest'anno al Comune di Ragusa, assieme ad altri 26 comuni italiani, 15 in più rispetto all'anno scorso. Dopo la bandiera blu, il Comune di Ragusa ha ottenuto questo riconoscimento, segno dell'attenzione al territorio rurale e alla qualità della vita. Il riconoscimento è stato istituito dalla Foundation for Environmental Education e dalla Confagricoltura per premiare quei comuni rurali che sono candidati per avere efficacemente sfruttate e valorizzate il proprio territorio con le produzioni agricole, la gestione dei rifiuti, la raccolta differenziata, l'arredo urbano, l'accessibilità e la qualità dell'offerta turistica. La bandiera Spiega Verdi è stata consegnata dal Presidente della Fondazione Claudio Mazza e dal Presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti, all'Assessore all'Energia ed Ambiente del Comune di Ragusa Antonio Zanotto, che si è ricato nella Capitale per partecipare alla premiazione. Ancora una volta, dichiara l'Assessore all'Energia ed Ambiente di Antonio Zanotto, viene premiato il lavoro svolto dall'amministrazione comunale, che conquista la bandiera Spiega Verdi e questa è la conferma del buon operato di questa amministrazione comunale, che ha tra i propri obiettivi la valorizzazione del patrimonio agricolo e rurale, che viene sfruttato anche turisticamente. Grazie. 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 Grazie.